Il videogioco come strumento educativo per riconoscere e prevenire i principali rischi presenti a casa, a scuola e nei luoghi di lavoro. Quarta edizione degli Scaccia Rischi, le Olimpiadi della Prevenzione, un progetto concorso in collaborazione con Linea, il destinato a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Puglia, per stimolare la riflessione sul fenomeno infortunistico, sui rischi che ci circondano e sulle precauzioni da utilizzare per evitare che i rischi si trasformino in danni per la salute. L'ultima edizione ha visto la partecipazione di 6.751 studenti e di 105 docenti, raggiungendo 1,1 milioni di interazioni sui social. L'obiettivo è bissare i numeri del 2020. Le novità sono legate alla circostanza che noi stiamo cercando di puntare sempre più su queste nuove generazioni. Le modifiche del programma sono quelle che avevamo già preventivato, ma che in qualche modo sono state condizionate dalla pandemia. Noi ribadiamo il successo che abbiamo avuto negli anni scorsi con questa nuova edizione ed è una collaborazione con la Regione che ci onora perché ci permette di essere protagonisti nel rapporto con la comunità, soprattutto rispetto ai ragazzi e agli studenti che giocando imparano che cos'è la sicurezza e sui luoghi di lavoro.